Buonasera a tutti e benvenuti in mio grande accampamento e adesso chiudete occhio e venite nel parco divertimento più grande del mondo adesso partono le giostre, partono de musica, via Zlatanolai Giovani al centro portate le belle signorite alla cassa questo è l'una parca più grande del mondo e io vi tengo compagnia con mia musica ed è tutta gratis, ascoltala e spaccati tutto da naso allora lo so che non è mai capitato che qualcuno vi desse qualcosa di gratis ma adesso io vi regalo grande compilation che spacca bonbon di musica tambuzza se tambuzza vuol dire detta marrello, capito? io so che tu ragazzino pugno palla che te fa mazzo di sega, no? allora tu prima di andare a far spruzzata da solo su YouPorn davanti a monitor con pornografia tu ascolta questa musica perché questa musica è quella che ti libera testicoli a testicoli a testicoli Per quelli che ascoltano questa compilation vi ricordo di lasciare macchina al vicino camper quello grosso quello tipo velletta schiera no ma con ruote casa con rotella praticamente così io poi spadino possibilmente macchina grossa non te fermare con punto